Dall'autore della famosissima Memories, nessuno può dimenticarla, al di là del genere che uno preferisce, al di là proprio, David Guetta è over, è sempre over, è uno che va bene sempre, va bene ovunque e non smette mai di essere al top, infatti nono al mondo su Spotify. E dicevo, da Memories a Remember, quindi dalla memoria al ricordo, ed è sempre lui, lo stile è quello, non è cambiato con gli anni fondamentalmente, David Guetta funziona proprio perché è David Guetta, se magari io dico sempre che bisogna sapersi rinnovare diciamo, lui invece è un esempio di coerenza, comunque quello che porta, è chiaro che Titanium la fai una volta nella vita, E' chiaro che le hit storiche sono quelle lì che ha fatto in certi periodi perché le portiamo nel cuore, però lui non ha mai abbassato il tiro della qualità, non è mai andato troppo oltre quel seminato che lo compete e che lo rende quello che è, e si chiama marchio di fabbrica, si chiama quello che sei, e lui lo porta bene, E infatti quando ascolto Remember, io ho la sensazione di averla già sentita questa canzone, dico ma cazzo, no? La voce di questa artista, Bay Kill, spero di averla pronunciato bene, perché? Perché comunque lo stile David Guetta è talmente riconoscibile, talmente unico, Che quando poi lo riporta sulla base, anche nel 2021, con la voce insomma della cantante di turno che se ne sa scegliere, poi dici ma cavolo l'ho già sentito, non è che l'hai già sentito, è che è David Guetta, e questo è, e questa canzone fondamentalmente è l'ennesima consacrazione di un artista che è attivissimo, Ogni settimana in quest'estate ha fatto uscire un mix, un mix ballabile, un mix di qualità, una musica dance che ti riporta ad anni lontani, ma che è attualissima anche oggi, e quindi di conseguenza funziona, Squadra che vince non si cambia, ecco David Guetta e la Juventus che vince nove scudetti di fila, punto, però vince nove super league di fila, perché va a livello internazionale e mondiale, Quindi ecco cosa ho da dire su questo brano, che mi sa di sentito, l'ho già sentito, ma semplicemente perché è lui, lo ascolti, io potrei sentire le prime note, anche solo sentendo la voce del featuring, dico ok, questo è David Guetta, e questa è la grandezza, questo è Remember, te lo ricorda bene chi è.